Vigili del fuoco al lavoro in via Roma a Rubano in provincia di Padova per l'incendio di un deposito attrezzi che si è propagato al tetto in legno di un'abitazione singola. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco della centrale di Padova di Abano Terme con il supporto di due autobotti e di una piattaforma tridimensionale. Gli interventi per ultimare le ultime operazioni di bonifica sono durati alcune ore.